Ciao a tutti, oggi un video in cui organizzo le mie letture con voi. Ebbene sì, giugno è appena iniziato e pertanto, come ogni mese in realtà, cerco di farmi più o meno una cosiddetta TBR mentale, anche se molto spesso non le seguo al 100%, nel senso che evito, perché detesto anche questo modo di organizzare le letture, evito di seguire pedissequamente un programma di letture e mi lascio a volte ispirare un po' dal flow, ispirare da quello che mi incuriosisce nel dato momento. Di solito però mi organizzo soprattutto per il fatto che, come vedete, il mio comodino è sempre traboccante di titoli e quindi cerco anche di fare un po' di ordine mentale. Allora, i libri in questione sono questi, possono sembrare tantissimi... Aspettate, ok. Possono sembrare tantissimi, ma c'è una spiegazione per tutto. Allora, per tutti coloro che mi chiedono come faccio a leggere così tanti libri, ma sei un robot, Matteo, come fai? La risposta è molto semplice. La mia fortuna e sfortuna allo stesso tempo è che sono pendolare, che faccio un tre ore al giorno di mezzi, tutti i giorni, e quindi considerate che sono tre ore per leggere. Quindi io leggo tre ore al giorno, tutti i giorni, escluso il weekend, per dire. Quindi, da un lato, una sfortuna, perché mi do, arrivo a casa distrutto, eccetera, eccetera. Dall'altro, però, una fortuna, perché è tutto lì il mio tempo per leggere e chi è pendolare come me saprà che cosa intendo. Dall'altro lato, appunto, nel caso in cui, in un futuro prossimo, io riesca a trovare un'abitazione vicino a dove lavoro, ecco, allora, in quel caso, vi assicuro che il numero di letture, purtroppo, calerà. Al momento riesco a mantenere comunque un buon ritmo, diciamo. A volte, come tutti i comuni mortali, crollo sul treno, ma addormento. Quindi, non sempre leggo al 100%, ma in molti casi, sì, cerco di sfruttare al meglio quel tempo per far qualcosa di produttivo e per potermi dedicare a una passione che, altrimenti, non riuscirei a coltivare a pieno e in modo così denso, per via, appunto, di impegni chiamati vita sociale o chiamati anche, a volte, distrazioni, per esempio. E quindi, niente, sono qua per parlarvi dei libri che ho deciso di leggere più o meno nel periodo di giugno. Io tendo anche a mettere più titoli in base al mio ritmo di lettura. Così ho anche, diciamo, i piani B, eccetera, eccetera. Alcuni, per la precisione, tre di questi libri sono già in lettura, di cui due, devo ammettere... No, tre già quasi più o meno a conclusione, tra l'altro. Perché... perché sì. Iniziamo. Allora, il primo libro, che ho superato di recente la metà, è un libro, diciamo, un po'... Trasgri. Ebbene sì. Il libro in questione è Pornage, di Barbara Costa, che è un'autrice che, attraverso questo saggio molto hot, ma allo stesso tempo estremamente interessante, affronta il mondo del... del vivere la vita trasgri, capite, un po' la vita furbetta, la vita sotto le coperte, molto spesso collegata ai social media e a tutte le nuove, diciamo, ossessioni erotiche derivate dal web, che dona, da una parte, una grande libertà e accessibilità dei corpi e, dall'altra parte, ci sono dei pro e dei contro, appunto. Barbara Costa, con piglio molto ironico, cinico e, allo stesso tempo, estremamente informato, offre, appunto, questa panoramica che è super interessante, soprattutto perché, diciamo che la tesi di questo saggio, almeno fin dove sono arrivato, è che anche nelle stranezze più oscene, in un certo senso, c'è una certa dose di rivoluzione, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione tra esseri umani, in un periodo in cui si tende a tornare un po' a una certa, a un certo pensiero estremamente tradizionalista, no? E quindi, in un certo senso, il sesso viene visto come una nuova fonte di ribellione, anche oggi che sembra così sdoganato e così presente nei nostri media, in un certo senso si avvale di internet per poter dare una certa libertà, in un certo senso. Questo libro affronta sia le cose, diciamo, più scontate dell'unione web e erotismo, dall'altra parte offre anche una panoramica su certe ossessioni dedicate a nicchie, di cui spesso la reazione è what the fuck, però, diciamo che, anche nelle reazioni più what the fuck, c'è sempre uno studio profondo, decisamente interessante. È un libro, probabilmente, non per tutti, ma, se siete appassionati di comunicazione media, eccetera, eccetera, può essere un libro più che interessante. Di questo libro sono arrivato a oltre metà, diciamo che l'ho letto, lo sto leggendo in anteprima, uscirà per il saggiatore, verso metà giugno, diciamo. Un altro libro che ho quasi terminato è questo, che è Giovani artisti disoccupati, di Cyril Martinez, edito Clichy, è un, diciamo, un libro che mi aspettavo molto diverso. È comunque interessante, ma, diciamo che lo shock iniziale durante la lettura è stato... mi ha scosso abbastanza, nel senso che dovrebbe essere un libro che romanza l'ipotetica, non si sa neanche se sia successo, se sia successo, è ipotetica amicizia tra Andy Warhol e John Giorno, che è uno dei poeti e scrittori della Big Generation. Diciamo che, attraverso questa unione, in un certo senso, quello che fa Martinez, è di sottolineare il clima artistico, il clima anche snob, anche radical chic, dei quartieri, bene, degli intellettuali a New York. La scrittura, diciamo, che gioca molto spesso con i giochi di parole, gioca con l'ironia, è anche snob nel modo di scrivere, quindi, al momento, diciamo che mi sta scuotendo abbastanza. Non è nulla di ciò che mi aspettavo, è un romanzo fortemente underground, sotto quell'aspetto. Ha degli aspetti positivi, di altri aspetti, invece, devo capire se effettivamente mi stiano piacendo o meno. Comunque, che piaccia, che mi piacerà o non mi piacerà, comunque, già noto un certo, una certa peculiarità in questo libro, che ad alcuni potrà piacere molto. Vedrò di terminarlo, di farvi sapere che ne penso. Un altro libro, che ho iniziato da un bel po', e il motivo per cui non l'ho finito, è che semplicemente è una raccolta di racconti, quindi me l'ha compeso, molto spesso leggo un racconto tra un romanzo e l'altro, è questo, che è Mattina d'inverno con cadavere, di Laszlo Darvasi, sempre il saggiatore. È una raccolta di racconti di questo autore ungherese, molto bravo nello scrivere, è una scrittura molto raffinata, che può ricordare Gombrowicz o Krasnarkaj, quel tipo di scrittura plumbea, un po' kafkiana, un po' inquietante, un po' sommessa, e con il tema, quasi sempre, della morte. C'è anche una certa ironia, quindi è pacco polacco, assolutamente rientrerà, potrà rientrare nella amatissima rubrica, dall'altro lato, però, c'è ogni tanto una certa ironia che stempera il clima oscuro, diciamo. Quindi, sì, lo sto leggendo, sono a pagina 200 e qualcosa, pian piano me lo leggo, me lo leggo con calma, tra una lettura e l'altra, diciamo. Tra i libri che non ho terminato, un libro che non ho neanche iniziato e che punto leggere questo giugno, assolutamente questo, che ho comprato al Salone del Libro di Torino, è Il Quaderno Kanguro, di Abe Kobo. Abe Kobo è un autore che tra l'altro ho già portato sul mio canale proprio agli albori, con un libro assurdo che era l'uomo scatola. Se c'è un autore, giusto per darvi delle coordinate, che si avvicina, un autore noto che si avvicina ad Abe Kobo, è Kafka, assolutamente. Questo qua, Il Quaderno Kanguro, è l'ultimo romanzo scritto dall'autore giapponese, edito Atmosphere, è un delirio, è un viaggio agli inferi, questi inferi molto strani, in cui ci sono delle sexy infermiere, si ascoltano i Pink Floyd, boh, assurdo, delirio psichedelico di quest'uomo che esattamente come Gregor Samsa subisce una trasformazione kafkiana. In realtà, poverino, anziché trasformarsi in uno scarafaggio, questo impiegato giapponese si ritrova alle gambe sostituite dalle radici di daikon. assurdo, voglio vedere dove va a parare, sapendo anche quanto Abekovo sia fuori di testa e che i suoi deliri, in un certo senso, siano ben organizzati, non vedo l'ora di vedere che cosa ha combinato, e sicuramente sarà un romanzo che adorerò tantissimo, perché l'autore l'ho già incontrato, l'ho già amato, l'ho già apprezzato, e quindi parto bello convinto. Un altro libro che devo assolutamente leggere è Città Sola di Olivia Leing, che in sostanza è un saggio barra romanzo, devo ancora capire, è un po' un ibrido, diciamo, dove il tema trovo che sia estremamente interessante, ovvero il tema della solitudine in posti estremamente affollati, come appunto le nostre metropoli. È un tema che io trovo molto molto interessante, soprattutto, che ne so, legato alla filosofia dei non luoghi di Auger, per dire quel tipo di riflessioni lì, questi luoghi di transito dove ci siamo tutti ma nessuno si conosce, eccetera, eccetera. È un tema che piacendomi molto, interessandomi molto, questo tema dell'incomunicabilità, della solitudine, dell'essere soli in mezzo agli altri, spero di trovare appunto una lettura più che interessante, cosa che immagino sia, perché di questo libro sento parlare molto bene. Così come sento parlare bene anche di quest'altro, che è Voragine di Andrea Esposito, un romanzo d'esordio che ha anche di pacco polacco, questa storia familiare, rapporto padre-figlio se non l'ho capito male, in quest'ambiente distrutto, semi-apost-apocalittico, un romanzo che si preannuncia oscuro, bello e inquietante, un po' pacco polacco come piaccia a me. E quindi non vedo l'ora anche questo di leggerlo, sto vedendo che comunque sta ricevendo diverse nomine a premi importanti letterari, quindi parto bello bello convinto. Tornando alla cliché, invece, un romanzo che voglio leggere è questo, che è il Potomac di Jean Cocteau, è un romanzo molto particolare che include anche tantissime illustrazioni, perché è il romanzo, la particolarità di questo romanzo è che si spezza e continua attraverso più media, ad esempio la poesia, il verso, il disegno, quindi il disegno anziché essere come si può pensare un supporto alla storia è la storia stessa, cioè ci sono delle pagine scritte dove la storia continua attraverso il disegno. È il romanzo di esordio di Cocteau dove ha iniziato una svolta bella, sperimentale, delirante che lo porterà a diventare uno dei più autorevoli autori francesi. Quindi, assolutamente da leggere, da tanto che voglio leggerlo, mi ispira pazzia da tutti i pori, sarà un mese bello folle a considerare queste letture e non vedo l'ora di leggerlo. Un romanzo molto particolare che diciamo unisce internet, natura, eccetera, eccetera, è questo che è Nipponia Nippon di Abe Katsushige uscito per edizioni e barrao è un romanzo di un giovane autore giapponese che è uscito abbastanza in sordina ma che a me ispira parecchio è il racconto di un adolescente molto problematico che decide di andare su quest'isola per eliminare degli esemplari di uccelli che sono gli ibis crestati che sono degli uccelli in via d'estinzione e considerati tra i simboli del Giappone. Quindi mi immagino una storia di teenage angst se vogliamo rabbia contro le istituzioni poi la malinconia tipica da giapponese quindi mi ispira parecchio sarà magari non è nulla di ciò che mi aspetto ma io mi aspetto un romanzo di quelli plumbe i giappi con gli adolescenti che stanno male eccetera eccetera che a me piacciono molto quindi amerò così come amerò sicuramente sempre della stessa casa editrice L'amore molesto di Elena Ferrante in questa bellissima edizione è una collana che la casa editrice ha lanciato per diciamo i loro classici i suoi classici Elena Ferrante è un'autrice amatissima che io non ho mai affrontato non ditelo a nessuno ma che voglio affrontare per prima cosa anziché con la super saga amatissima da tutti l'amica geniale proprio con l'amore molesto semplicemente per il fatto che io ho adorato alla follia il film di Mario Martone e quindi sono pronto a conoscere questa autrice amatissima attraverso questo romanzo fatemi sapere se anche voi avete apprezzato questo libro perché so che la saga me la consigliano tutti io però sono così quando c'è un autore molto famoso tendo ad evitare di partire dal must cioè punto molto su un libro breve anche se questo qua è stato giustificato dal film punto sempre dal libro breve perché odiando lasciare a metà i libri dico conosco un autore almeno parto da uno breve così anche se non dovesse piacermi non mi viene la tentazione di abbandonarlo mentre con un malloppo è più complicata la situazione la sofferenza si protrae nel caso in cui un libro non piaccia in questo caso vabbè è il mio modo di agire poi se il libro mi piace effettivamente passo al must ma subito dopo diciamo a meno che il must in sé di questo autore non sia breve per breve intendo massimo 250 pagine per dire poi se ci sarà il momento di passare al malloppone si passerà al malloppone appunto in caso di amore incondizionato gli ultimi due libri li ho presi in biblioteca invece questo qua è Comunque vada non importa di Leonora Caruso l'ho preso semplicemente perché ho conosciuto l'autrice che è super simpatica super brava ho amato tantissimo le ferite originali il suo nuovo romanzo e quindi ho deciso di recuperarmi il primo uscito per la casa editrice indipendente indiana è la storia di una Aikikomori ambientata in Italia questa storia Aikikomori ovvero quei ragazzi che si chiudono in casa e decidono di tagliare i ponti con tutto e tutti sono molto curioso di vedere come l'ha gestita questa storia aspettandomi comunque un romanzo bello denso ma allo stesso tempo piacevolissimo da leggere quindi Leonora ti farò sapere l'ultimo libro preso diciamo perché è scioccato dalla notizia della scomparsa di questo scrittore bravissimo di cui ho letto diversi libri ho detto probabilmente è il momento di leggere qualcos'altro di Ross e quindi ho scelto L'animale morente che è un romanzo poco poco citato in realtà non è tipo citato come la macchia umana pastorale americana però ho deciso di prenderlo perché pur essendo poco citato vedo che coloro che lo citano coloro che lo recensiscono ne parlano benissimo e tratta appunto di relazione in un certo senso con questa donna fan fatale questa relazione tra desiderio malattia sono tematiche che mi interessano e quindi ho detto ricongiungiamoci con Roth attraverso questo romanzo fatemi sapere se l'avete letto tra l'altro perché lo leggerò il più presto possibile immagino di trovare quelle sensazioni e emozioni belle forti tipo Everyman of the Rose a me che io ho a me è piaciuto tantissimo quel libro ma quando l'ho letto stavo morendo dentro spero di trovarci ancora queste sensazioni perché a me piace soffrire con la bella scrittura e detto questo niente questi sono i miei libri a che punto a leggere questo mese sicuramente cambierà qualcosa ma non ci importa questo è più o meno il mio programma fatemi sapere cosa leggerete voi durante giugno e se qualcuno di questi libri vi interessa o non vi interessa se li avete letti fatemi sapere cosa ne pensate io vi mando un bacione vi aspetto al prossimo video e ciao ciao fate i bravi eh siate subdoli ciao a tutti i